Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca una ragazzina di 11 anni è stata accerchiata e poi aggredita da un gruppo di coetanei. Ha rotto i capelli e ora siamo dietro alla chiestura, vediamo che fa la polizia. Una ragazzina di appena 11 anni è stata accerchiata e picchiata violentemente da altri ragazzini più o meno sui 13-14 anni. È successo qui dove ci troviamo in questo momento nella zona del parcheggio della Cadorna ad Arezzo. La bambina è proprio scioccata. A parlare sono i genitori della ragazzina che sabato scorso nell'area del parcheggio Cadorna ad Arezzo è stata accerchiata e picchiata violentemente da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Dopo ore al pronto soccorso la bambina è stata dimessa, i genitori hanno sforto denuncia alla polizia sul caso, indaga la squadra mobile di Arezzo diretta da Sergio Leo. Tutto sarebbe nato da una serie di messaggi che la undicenne si sarebbe scambiata con altri coetanei e alcuni ragazzi. di poco più grandi. All'arrivo nella zona del parcheggio la vittima è stata accerchiata da una ventina di ragazzi, un vero e proprio branco, così lo avrebbe definito nel racconto agli inquirenti. Una centura per picchiare mentre che stavano addosso, calci e pugni da tutte le parti, l'ha salvata che era vestita a peso. In tre sarebbero già state identificate, si tratterebbe di tre ragazze tra i 13 e i 14 anni. I bambini devono pagare tutti, l'hanno picchiato, le ha tirato i capelli in quel modo, una cosa mai vista in vita mia, non succede al mondo una cosa così, non li fermiamo, succede anche domani, dopo domani. E' stato ritrovato il furgone rubato nella mattina del 14 febbraio a Terontola. Il mezzo da lavoro è ricomparso a città di Castello, è stato usato per un tentativo di furto andato a vuoto la notte scorsa. Gran parte della costosa attrezzatura portata via assieme al mezzo era ancora al suo interno. Recuperati anche gli importanti documenti contabili che il proprietario alla soglia della pensione teneva all'interno del mezzo. A lanciare l'allarme tramite social era stata la figlia del proprietario del furgone. Ed ancora cronaca, un 48enne polacco residente in città si era presentato agli uffici della Polizia Municipale per consegnare la patente di guida sospesa dalla Prefettura perché trovato a circolare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Solo che dopo aver consegnato il documento l'uomo si è allontanato alla guida della propria auto. Subito intercettato e fermato poco dopo da una pattuglia degli stessi vigili urbani è scattata la sanzione per guida con una patente sospesa e il veicolo è stato posto a fermo amministrativo per tre mesi. Segnalato l'accaduto anche alla Prefettura per il previsto provvedimento di revoca della patente di guida. A Rigutino invece questa mattina è divampato un incendio in una cantiere sul posto vigili del fuoco e sanitari dell'emergenza urgenza che hanno soccorso due uomini di 31 e 50 anni. Ancora da chiarire le cause del rogo. Adesso ci spostiamo in Valdarno per tornare a parlare dell'inchiesta a Cheu che ha toccato anche questo territorio. Questa mattina sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto Le Rose. I cancelli dell'impianto Le Rose di Levane questa mattina si sono riaperti per la messa in sicurezza. È infatti partita la bonifica della Zito da tempo al centro dell'inchiesta sugli scarti di lavorazione. Qui sono rifiuti per lo più pericolosi che derivano dallo scarto dell'industria orafa, del comparto orafo, quindi nickel, rame, boro. Questa mattina gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale Fiorentino hanno consegnato l'impianto di Levane a una ditta per la messa in sicurezza. È stata fatta una progettazione esecutiva proprio per mettere in sicurezza i cumuli che vedete qui alle mie spalle, l'area è abbastanza estesa per evitare che ovviamente il dilavamento di questi rifiuti possa comportare, aggravare la situazione ambientale di salute per i cittadini e per il territorio. Il materiale accumulato sul piazzale sarà così coperto in modo che l'acqua piovana non provochi eventuali infiltrazioni di sostanze nocive nelle falde. Naturalmente questa non è una bonifica definitiva, è un'operazione di messa in sicurezza con una copertura provvisoria e ci auguriamo, spichiamo che anche grazie all'aiuto degli enti autorizzativi si possa procedere poi a un allontanamento definitivo di questi rifiuti e una destinazione a discarica per rifiuti pericolosi. Il comune di Bucine ha già annunciato che si costituirà parte civile nel processo CHEU. Perché veramente come territorio siamo una parte lesa, perché come sapete tutti Bucine e la Val d'Ambra è un territorio che lavora molto, lavora. Il suo pregio primario è proprio quello della bellezza del territorio, della natura, i prodotti dell'agricoltura, il turismo. Quindi vedere il nome di Bucine, di Levane, sui giornali per l'indagine sul che ovviamente è un danno di immagine enorme. Continuano le giornate del ciclo di incontri del progetto ministeriale Cultura della Legalità che l'Arma dei Carabinieri sta svolgendo all'interno delle scuole. Oggi all'Ipsia di Castiglione Fiorentino, alla presenza del comandante della compagnia Carabinieri di Cortona de Santis e della comandante della locale stazione Amodio. Tanti argomenti toccati, tra questi la problematica della guida in stato di ebrezza con prove, pratiche di utilizzo dell'etilometro. I Carabinieri hanno poi illustrato anche in maniera tangibile come contrastano e prevengono la commissione di reati di vario genere, dal bullismo al cyberbullismo, dall'uso smodato di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e responsabilità penali con il contatto diretto con il mondo della scuola. Cambiamo argomento e ci spostiamo alla carcere Aretino di San Benedetto. Oggi la visita del sottosegretario di Stato alla Giustizia. Il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari ha visitato oggi la casa circondariale di Arezzo. Assieme a lui il prefetto Maddalena De Luca, l'onorevole Tiziana Nisini, il presidente del Tribunale di Sorveglianza Marcello Bortolato, il provveditore regionale Pierpaolo D'Andrea e il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. Spesso si vanno a visitare le grandi realtà. Arezzo è una piccola realtà e le visite sono rare. Però con la visita del sottosegretario si è voluta attenzionare la realtà di Arezzo, che è una realtà, seppur piccola, importante, che presenta tante criticità. Tra i temi principali la ristrutturazione dell'edificio ancora non terminata, anche e soprattutto per consentire una migliore funzione rieducativa della pena. Ci sono degli impegni da parte del Ministero che riguardano ovviamente dei lavori di ristrutturazione importanti che dovranno essere terminati e credo sia importante anche per la funzione rieducativa della pena investire ancora di più sotto profilo del trattamento. Lancio un'idea da qui. C'è questa struttura che è alle mie spalle, che è una vecchia caserma abbandonata di proprietà del Demanio. Io penso che possa essere utile magari un ragionamento che verifichi la disponibilità magari anche del mondo imprenditoriale, locale, per un investimento di ristrutturazione di questo edificio che possa permettere di avere più spazio per il trattamento che deve essere ovviamente il nostro primo obiettivo in questo caso. Al termine del sopralluogo, Stellari ha incontrato i rappresentanti del personale della Polizia Penitenziaria che prestano servizio nell'istituto e che hanno lamentato un mancato confronto con il sottosegretario. Questo non mi sembra un rispetto, ma non per la mia persona, ma per l'organizzazione che rappresenta. Ovviamente sapendo benissimo che io ho due deleghe particolari all'interno di questo dipartimento, il trattamento dei detenuti e i provveditori. Quindi di questo mi occupo, per il resto ho salutato e ovviamente sono a loro disposizione anche confrontandomi con il sottosegretario mio collega. Abbiamo comunque rassicurato i vertici politici del governo per quanto riguarda la nostra piena disponibilità a collaborare con le altre aree presenti all'interno di un istituto penitenziario. Il progetto itinerari dei cammini di Francesco per la parte che insiste in città vedrà l'inizio dei lavori di realizzazione nei prossimi mesi estivi. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta, l'amministrazione ha infatti avviato e concluso l'iter di affidamento dei lavori. Si tratta di un intervento di circa 270 mila euro finanziato dal Ministero dei Beni Culturali, la cui opera di maggior rilievo consiste nell'apertura dell'accesso a nord delle mura storiche adiacenti alla fortezza. Questo consentirà il collegamento del tratto dell'antica via Romea e dei cammini di San Francesco. Torniamo adesso invece a parlare del mercato delle loggie del grano. Prosegue la raccolta firme per salvarlo. Sono già quasi 800 le firme raccolte per salvare il mercato delle loggie del grano. A lanciare la petizione online ad inizio febbraio era stata l'associazione 2020 per cambiare a sinistra. Il mercato coperto è chiuso dall'inizio di gennaio, circa 70 le aziende del territorio coinvolte che per 7 anni hanno gestito la vendita diretta di prodotti agroalimentari e l'osteria del mercato, 11 invece i posti di lavoro persi. Oltre a sottolineare il grande valore economico e sociale del progetto interrotto bruscamente, la petizione si rivolge ai cittadini invitandoli a firmare per chiedere che questa esperienza venga seguita con attenzione sostenuta da parte del Comune di Arezzo per sostenere le piccole imprese del territorio che in questi 7 anni, si legge, hanno reso un servizio per arettini e turisti promuovendo le eccellenze del territorio. L'obiettivo minimo della petizione online che si trova sulla piattaforma change.org con il titolo salviamo il mercato coperto delle logge del grano di Arezzo, sono almeno mille firme. La questione entrerà anche in consiglio comunale che tornerà a riunirsi il prossimo 23 febbraio. A sollevare il tema sarà il consigliere di Arezzo 2020, Francesco Romizzi. Oggi ultimo di carnevale ed è tornata la festa nel cuore della città, quella in piazza Sant'Agostino. Coriandoli, maschere, trenino, musica e soprattutto tanto divertimento, per l'ultimo di carnevale si torna a festeggiare in piazza Sant'Agostino. L'evento come sempre è stato organizzato dai commercianti della piazza, da confesercenti e confcommercio. Vedere i bambini che si divertono così a liberi, senza nessun intoppo, è bellissimo. I genitori sono contenti perché sono tutti tranquilli i bambini qua. Una pazza tutta chiusa al traffico, meglio di qui, non si può fare di meglio, insomma, si può chiedere di meglio. Un pomeriggio all'insegna del divertimento per i più piccoli, con l'intramontabile trenino del carnevale dell'Orciolaia, ma anche maschere Disney e la Wiki Race. In piazza Sant'Agostino poi anche le maschere barocche del carnevale dei figli di Bocco. Ad animare la serata, invece, fino alla mezzanotte, la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Robi. Ci sono centinaia di bambini, veramente, veramente bello. La città ha risposto e questo è importante. E noi cerchiamo di fare del nostro meglio con della bella musica. Il Val di Chiana Village, invece, celebra il carnevale più antico d'Italia, quello di Fogliano della Chiana. Scansionando il QR code si può entrare all'interno di un documento che ci spiega quello che poi troveremo all'interno della mostra. Alcuni esempi delle figure che hanno fatto parte dei giganti di carta pesta e poi una bellissima mostra fotografica. Così si celebra il carnevale più antico d'Italia, quello di Fogliano della Chiana, al Val di Chiana Village. Un evento del nostro territorio, del comune che ci ospita. È un evento di eccellenza. È appunto uno degli eventi poi più storici e più antichi d'Italia. E noi, come tradizione, ormai lo celebriamo attraverso questa bellissima mostra fotografica. Ma anche poi è una mostra che racconta l'abilità che c'è in paese per la costruzione dei carri. Quindi con delle riproduzioni in carta pesta. E poi chiaramente con la mascherata di sabato 25, dove si potranno esibire sia le coreografie ma anche l'abilità, in questo caso, nella realizzazione dei costumi di carnevale dei quattro cantieri. Quindi è, ripeto, un'eccellenza del nostro territorio che noi da molti anni ovviamente vogliamo evidenziare, vogliamo dargli risonanza. L'Outlet è il luogo ideale per questo tipo di iniziative e chiaramente lo facciamo con grande orgoglio. Come sono stati scelti questi scatti e poi perché anche questo modo di raccontare? Allora, questi scatti sono stati scelti perché sono descrittivi del carnevale di Foiano. C'è una parte cronologica che va dall'apertura degli uscioni, che è il primo evento che avviene la prima domenica di carnevale ed è quello più emozionante, dove nessuno dei paesani ma anche dei turisti conosce cosa c'è all'interno dei cantieri e quindi si passa dalla parte di apertura degli uscioni fino, in ordine cronologico, alla cremazione del Reggio Condo, che è il nostro re di paglia. È stata scelta questa tecnica, abbiamo cercato di rendere il più buio possibile questa stanza e mettere in risalto i colori vivaci che ci sono all'interno del carnevale tramite queste fotografie retroilluminate e in più ci sono anche delle sculture dei carri realizzati negli anni precedenti che fanno sì che gli avventori della mostra possano percepire la dimensione che c'è tra il carro nella fotografia e il carro reale. Ecco, l'importanza di raccontare una manifestazione come la vostra anche in un luogo come questo che è solitamente dedicato insomma al commercio ma comunque ben integrato con il territorio che lo ospita. Il carnevale sta andando bene, l'outlet è un punto di riferimento importante non solo per Foiano ovviamente ma per tutta la provincia e per tutta la regione e quindi è importante che ci sia anche un luogo che parli del nostro carnevale e quindi è un'associazione vincente questa. Per il carnevale ci sono le ultime due domeniche, il 5 di marzo sapremo il carro vincitore. Sì, le prime tre sono andate benissimo sopra ogni aspettativa, non ce le aspettavamo neanche noi perché dopo i due anni di stop per via del Covid dovevamo riprendere un po' anche tutta quella che era l'organizzazione però sono andate davvero molto bene. Ecco, una curiosità, ma perché non ci sono più i personaggi politici nei giganti di carta pesta? Allora, i temi politici ci sono sempre, forse sono sviscerati anche meglio di quando vi erano propri personaggi in carta pesta con la faccia, con l'immagine del politico però chiaramente anche la politica essendo negli anni diventata molto più veloce, più fluida per quanto riguarda l'organizzazione di un carro, di un tema ci vuole almeno 8-9 mesi di tempo per realizzarlo e quindi 9 mesi di tempo magari uno si fa un'idea di un carro, un'idea di tematica e poi magari è cascato il governo, un politico che ha una posizione e non ce l'ha più e quindi poi dopo ricreare tutto quello con l'attualità diventa complicato. Uno è sicuramente questo, altri motivi sono che la politica viene identificata con altre cose con magari personaggi immaginari, con personaggi di fantasia, quindi la politica c'è non ci sono più i personaggi politici che magari non fanno neanche più tanto glamour o clamore come facevano negli anni 90 diciamo. Hanno registrato Sold Out, i due appuntamenti con il Festival della Magia che sabato ha divertito il pubblico del Teatro Petrarca. Organizzato da Casa Tevenin, lo spettacolo alla sua terza edizione ha visto alternarsi sulla palcoscenico artisti di fama internazionale capaci di coinvolgere e trasportare i presenti nel mondo di emozioni e fantasia tipico di questa forma d'arte. Tanto divertimento ma ovviamente anche tanta solidarietà, l'incasso è stato interamente devoluto all'Istituto di Via Sassoverde. Passiamo adesso alla pagina dello sport. Domenica l'Arezzo è atteso dalla partita di Ponzacco. Il primo posto in classifica potrebbe portare in trasferta diverse centinaia di tifosi a Amaranto. La società pisana ha messo a disposizione 500 biglietti disponibili dalle 16 di oggi. Gli Amaranto intanto questo pomeriggio sono tornati ad allenarsi come vediamo in queste immagini in vista anche dell'amichevole in programma giovedì prossimo alle 15 alla comunale contro il Foiano che melita in eccellenza. L'Arezzo Calcio Femminile invece prenderà parte con la formazione primavera alla 73esima edizione del torneo di Via Reggio partecipando alla quarta edizione della Via Reggio Women's Cup in programma dal 21 al 23 marzo. Per l'Arezzo Calcio Femminile si tratta della prima storica partecipazione a questo torneo che è arrivato quest'anno alla quarta edizione. Passiamo adesso alla nuoto, due primi posti, tre secondi posti e tre terzi posti per la chimera nuoto nella prova invernale di Livorno. Il percorso di avvicinamento al campionato Toscano-Giovanile-Invernale è infatti scandito da una serie di tappe di qualificazione interprovinciali dove atleti ed atleti della società retina stanno misurando il livello della loro preparazione e stanno ben figurando tra positivi piazzamenti e miglioramenti cronometrici. La maggior soddisfazione della prova livornese è arrivata con Gaia Bursi 2007 che si è piazzata davanti a tutti nei 200 misti e soprattutto ha centrato la qualificazione per i prossimi campionati italiani giovanili. Questa perra stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.